Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Mati! Mati! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì, sì! Io.... Io ... Io entendo perché non mi sono contato, perché non ti volevo Iya... Che... io ti stavo cercando tutta mia vita e non ti vorrei di farlo ora così metete lo bene in questa casa per fiare che hai tutto dico e che non ti voglio fare perché io non miro a migliorare lo vamo a arreglarse di una maniera vamo al conduttore vamo a buscare altri caminos io sempre vorrei stare qui al lago tuo andate la mano fino al final non ti vorrei lasciare sola non ti vorrei lasciare sola già non ti vorrei non ti vorrei con la cara amassata enrolando a acordar o a acordar cosa linda o pro onde você está non precisa nem chamar o o Grazie a tutti.